bene buonasera a tutti eccoci qui connessi eccoci qui connessi con renata leva ti lascio fare un saluto renata buonasera a tutti ben trovati a tutti quelli che si sono connessi e che si connetteranno perfetto io ho sentito in sottofondo le campagne di renata che mi ha appena confessato di essere un piccolo borgo al confine tra abruzzo e marche anzi nelle marche al confine con l'abruzzo e quindi ho deciso di partire questo webinar con questo webinar anche un paio di secondi in anticipo rispetto al solito vedo che ancora altre persone si stanno collegando quindi faccio così intanto mando un saluto a tutti voi quindi c'è Antonio che già mi scrive in chat quindi ciao Antonio quindi facciamo così un paio di cose al volo e poi lascio la parola a Cristina Micheloni che è la persona che ha reso possibile l'organizzazione di questo webinar quindi ciao Cristina vedo che anche tu sei già connessa ciao Giuseppe ciao Susanna ciao Antonio e ciao a tutti quanti un paio di regole di ingaggio sull'utilizzo della piattaforma allora se vi connettete da cellulare c'è un pulsante a forma di domanda se ci cliccate super potete scrivermi un saluto e sono solo io a leggerlo quindi cliccate e scrivetemi lì se siete da computer invece cliccate sulla freccettina arancione vi si apre uno schermetto di controllo potete scrivere lì dentro scrivetemi per esempio ciao Francesco qua tutto bene scrivetemi magari se è il primo webinar a cui partecipate se è il primo webinar organizzato da me al quale partecipate o se è il primo webinar di di Renata con Renata come come relatore al quale partecipate quindi adesso leggerò pian piano le vostre le vostre risposte in chat quindi Alessio chiaramente ne ha già fatti 500 quindi ti saluto Alessio buona serata Eugenio Giuseppe Antonio ciao Lucia ciao a tutti oh Francesca è il tuo primo webinar fantastico Nicola il suo secondo webinar invece Giorgia il primo webinar ma correnata primo webinar in assoluto per Daniela ciao Daniela allora anche per Anna è il primo webinar in assoluto quindi ciao Anna ciao Genio Andrea Fabio Cinzia per me la prima volta Cinzia quindi un saluto anche a te Susanna è il secondo Andrea quindi ciao ok Lorenzo è il primo webinar che partecipi dei nostri quindi il primo webinar in assoluto Lorenzo no scherzo chiaramente quindi ciao Sabrina tu ne hai già partecipati a migliaia di webinar c'è Paola c'è Elena c'è Fabio c'è Lara anche parlare al primo webinar Eleonora invece invece ha perso il conto dei webinar Hilda invece ha già partecipato al tuo altro webinar ok mentre è il primo webinar con me mentre hanno già seguiti altri con te quindi benissimo bene 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 esatto Alessio questa non la leggo ad alta voce ma ti ho visto quindi bene 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 allora vedo che tutti sapete già utilizzare lo strumento perché bene o male quasi tutti voi mi avete scritto un saluto in chat io prima di lasciare la parola a Renata vi vi condivido la possibilità di iscrivervi al nostro gruppo Facebook che si chiama viticoltura visionaria pubblicheremo lì tutti i prossimi appuntamenti e tra l'altro adesso lascio un attimo la parola a Cristina e Renata ti faccio condividere lo schermo e prima di partire ufficialmente quindi di togliermi dal dello schermo aspettavo ancora un paio di minuti che si connetta alle altre persone annuncerò un futuro evento nostro mentre Cristina adesso ti ti do la parola Renata ti è arrivata la notifica del sistema quando sei pronta a condividi lo schermo mi è arrivata sto condividendo allora io ancora non lo vedo eccolo perfetto sì sì adesso si vede tutto Cristina va il microfono benissimo noi lo vediamo io lo vedo ok perfetto adesso anch'io vado velocissima solo un saluto a tutti e solo per ringraziare non sono io ho fatto veramente molto poco quasi niente per rendere possibile questo webinar anzi ringrazio Renata per la disponibilità Francesco ormai che dobbiamo dire è bravissimo ci aiuta sempre ci sopporta ma soprattutto Karen e Giulia che hanno preparato locandine fatto la divulgazione tutte queste cose qui Massimo Daniela insomma c'è IAB FWG dietro non ci sono io sono tutti loro che hanno reso possibile l'organizzazione anche di questi tempi abbastanza complicati perché la cosa se vorrete abbastanza ridicola è che facciamo tutte queste organizzazioni però è da mesi che non ci vediamo tra di noi tra noi medesimi quindi è tutto quanto a distanza e ogni tanto perdiamo qualche colpo quindi se ogni tanto perdiamo il filo del discorso non non abbiatevi a stupire perché proprio legato alla distanza però tutto quando e confidiamo che presto riusciremo anche a vederci a fare qualche cosa dal vivo grazie Renata per la disponibilità grazie è sempre un piacere ma per noi assolutamente per noi il tema è affascinantissimo abbiamo già parlato l'altra volta con Renata del microbiota intestinale del suo impatto sulla salute sul sistema immunitario parliamo questa serie di alimenti fermentati che sono veramente una passione per molti di noi del giro di Aia e Florenza e Giulia lo dico perché non me lo ricordo Renata quando sei venuta qua ti abbiamo fatto assaggiare la brovada perché è un fermentato tipico friulano sono le rape fermentate nelle vinacce e questo è poi grattugiate e cotte poi ti dovrei dire una cosa che una nutrizionista non si dice si mangiano col cotechino però per questa sera lo diciamo e basta si possono mangiare sono buonissime una tantum e se il cotechino è felice come la gallina felice di Berrino si può mangiare ogni tanto assolutamente sono da maiali felicissimi e che hanno vissuto in maniera felice e bravi però insomma è un fermentato tipico della nostra proprio della nostra zona abbastanza ristretta anche come areale e che si tipicamente si mangiava cotto appunto con con il cotechino anzi con il musetto che è una cosa un po' diversa dal cotechino e e il si può però benissimo mangiare anche da solo ma anche crudo è una cosa molto la provata cruda è una cosa molto bellissima prossima volta che vieni a trovarci te lo facciamo assaggiare dai vai aggiudicato benissimo grazie a tutti vai vai ti lascio finire no ero solo un grazie finale quindi ho finito perfetto allora adesso visto che tutti mi avete scritto in chat tutti o quasi mi avete scritto in chat voglio complicare un attimo le cose visto che stasera abbiamo un pubblico abbastanza ristretto vi condivido in chat un link da questo link è il link per iscriversi alla serata di alla trasmissione a questa trasmissione se lo volete potete girare questo link a una persona che potrebbe essere interessato a questo webinar a partecipare non deve essere per forza vostra collega può essere anche un parente perché l'argomento è sicuramente di interesse per tutti non deve essere sicuramente un tecnico potete girarlo a non lo so a chi volete voi ve lo lascio condividere con tutti quanti mentre colgo l'occasione è anche per condividervi un ulteriore evento questa volta è un webinar sempre gratuito e che terremo martedì prossimo alle 10 e 30 è un webinar un po particolare perché non si parla di tecnica enologica non si parla di tecnica viticola ma si parla di vendite è un webinar che è stato ideato principalmente per insomma per chi ha un'azienda viticola ma potrebbe essere utile anche per tutti voi che magari vi occupate di della parte tecnica o magari siete consulenti enologi perché verranno spiegate alcune tecniche proprio di vendita in realtà che possono esservi utili quando magari se siete dei consulenti volete andare a raggiungere ulteriori clienti ulteriore cantine alle quali fare consulenza quindi sono sicuro che potrà essere di vostro interesse trovate il link nella chat vi consiglio di scrivervi subito perché come sempre i posti sono limitati fatelo così vi riservate il vostro posto allora giuseppe ci chiede cristina se si chiama brovada non in caso poi gli mandiamo un link ti mando un link su google me lo cerco e te lo te lo mando giuseppe ok ciao camilla allora maria lo risolviamo così te lo invio privatamente perfetto dai allora renata noi stiamo vedendo il tuo schermo tu vedi ti funziona tutto bene vero sì io vedo solo il mio schermo non mi vedo parlare però credo sia normale perfetto quindi io tolgo la mia webcam e il mio audio ma se tu renate bisogno di qualsiasi cosa io ci sono invece se voi avete bisogno di qualsiasi cosa io rimango dietro il regia e mi nascondo renata buon webinar grazie allora inizio da questa slide scroccando un'infografica che è stata presa proprio dall'ultimo articolo il data room di milena gabanelli alla quale ho collaborato che era appunto sistema immunitario e microbiota che è l'argomento di cui ho parlato nel precedente webinar mi serve per come gancio per ricordare chi segue il banale di oggi visto che c'è una persona un paio di persone o forse qualcuno in più che ha detto ha dichiarato di partecipare come prima volta a un webinar quindi magari è un richiamo che può essere utile per chi non aveva seguito comunque il webinar della volta precedente in cui si pone l'accento proprio su quello che è l'intestino perché il 70 e l'80 per cento delle cellule immunitarie si trovano proprio nell'intestino e il cibo ovviamente è un importante variabile in grado di modulare il microbiota intestinale che appunto a sua volta è quello che è diciamo deputato a gestire vari aspetti della nostra salute in primi tra tutti appunto il sistema immunitario vedete qui alcuni degli alimenti più noti e non me ne voglia cristina ma ovviamente qui ho messo solamente quelli che sono diciamo i più noti e sui quali sono presenti alcuni degli studi che sono stati fatti per dimostrare l'effetto o un potenziale effetto sulla salute inizierei e anche col dirvi l'importanza dell'alimentazione sul microbiota perché perché sono diverse le indicazioni che ci dicono che un microbiota deve essere tanto più diverso possibile e questo viene assicurato quando abbiamo una buona e discreta variabilità alimentare e soprattutto questa variabilità alimentare riguarda quello che è il mondo vegetale prevalentemente come base non solo ma comunque in buona parte una buona fonte quindi di fibre vegetali ci assicurano una biodiversità e una ricchezza del microbiota diversamente l'industrializzazione del cibo con tutto quello che comporta quindi comunque processazioni alte temperature che devono assicurare la trasformazione ma anche la conservazione negli scaffali ci rendono indietro un cibo che noi possiamo definire un po' morto e in questo senso questo cibo impatta sul microbiota in modo da ridurre quella che è la sua biodiversità e quella sua ricchezza e in questa slide lo vediamo molto bene poiché un intestino in buona salute che presiede quindi diciamo a tutte le funzioni e lavora diciamo in modo da assicurarci una neuroplasticità da assicurarci acidi grassi a catena corta che sono il butirrato l'acetato il proprio nato che hanno azioni immunomodulanti in uno stato di eubiosi e questa dieta invece ricca di alimenti industriali che ci determina uno stato di disbiosi con tutto quello che affligge un intestino disbiotico probabilmente non vi sento ma tra gli uditori ci saranno sicuramente persone che hanno un piccolo disturbo intestinale chi può avere gonfiori chi digerisce male qualcosa chi ha problemi di intolleranze tutti questi problemi sono derivati dall'utilizzo di alimenti che via via sono diventati sempre più industriali e sempre meno io direi vivi vedete come nei casi di disbiosi aumentano diciamo aumentano alcuni marcatori come la zonulina che è un marcatore specifico delle cellule intestinali che presiede diciamo un po' a alterazioni della zonulina sono indicatori di quella che viene definita la sindrome dell'intestino percolante ossia un intestino il motivo per cui spesso abbiamo delle problemi di disbiosi è legato al fatto che non abbiamo abbiamo perso quell'integrità della membrana per cui attraverso questa membrana passa un po di tutto la faccio breve la concludo l'alimentazione qui ha un ruolo fondamentale ed è importante e questa slide che avevo fatto vedere se ci saranno delle proteste faccio questa piccola premessa su alcune immagini su dei testi che sono in inglese perché alcune cose erano intraducibili altre ve le ho lasciate per farvi vedere che sono delle voci bibliografiche cioè i lavori che sono stati pubblicati allora lasciate stare quello che è lo schemino a fianco dove vedete che insomma varie fonti alimentari vanno ad interagire come vi dicevo nell'intestino con effetti più o meno positivi e leggete invece quello che è scusate leggete invece quello che è la cosa importante il dato importante che uno studio piuttosto ampio che è stato condotto in francia ha concluso che con gli alimenti e con il consumo di alimenti ultraprocessati c'è un dieci per cento in più di caos di rischio di morte per tutte le cause di malattia quindi tutte le patologie più importanti e nel campione di consumo di questi alimenti 14,4 per cento di tutto il peso del cibo era rappresentato da scusate era erano alimenti diciamo conservati e il 29,1 per cento corrispondeva a bevande zuccherate quindi in qualche modo l'associazione di determinati tipi di alimenti e vedete che questo ha una sua importanza anche per quello che riguarda la possibilità di ingrassare o mantenere un normo peso perché chi lo sa o chi non lo sa la colonizzazione una buona colonizzazione del nostro intestino è strettamente correlata anche a quella che è la sensibilità insulinica che è strettamente associata anch'essa alla possibilità e capacità di mantenere un buon preso corporeo ovviamente associato anche un buono stile di vita l'importanza dell'intestino e della buona funzionalità dell'intestino è appunto determinata dal fatto che l'intestino e dall'intestino nascono delle relazioni dirette con tutta una serie di patologie e vedete che riguardano tutti i distretti corporei a partire da quello che è che sono patologie strettamente inerenti al tratto gastrointestinale ma poi vedete celiachia quindi associata al tratto gastrointestinale ma poi vedete che ci sono l'artrite reumatoide e la fibromialgia affezioni genitorinarie problematiche di allergia aterosclerosi e via dicendo quindi la salute dell'intestino è praticamente la salute sistemica di tutto l'organismo parlando di diete di diete che vanno molto di moda volevo farvi vedere prima di introdurre proprio l'argomento l'impatto diciamo che c'è sul microbiota intestinale per esempio di una dieta che va molto di moda sia per motivi perché utilizzata nel trattamento di determinate patologie ma anche perché assicura anche un dimagrimento molto veloce della dieta chetogenica ora la dieta chetogenica determina delle alterazioni importanti su quelle su quello che è il nostro microbiota intestinale e guarda caso in un questo studio che è stato pubblicato e valutava l'effetto appunto della delle diete chetogeniche guardate c'è ad un certo punto introdurre alimenti fermentati che film chimici kombucha o verdure fermentate perché a testimonianza del fatto che c'è una diminuzione di quella che è la ricchezza e la alfa diversità cioè la diversità di una certa parte di batteri intestinali quindi vedete com'è importante che vengono introdotti degli alimenti che ci possano assicurare questa biodiversità come è nato l'interesse per gli alimenti fermentati nel 1907 l'anno in cui è stato assegnato il premio nobel e il vincitore era un tale impronunciabile che era metchnikov che ha valutato gli effetti benefici di latti fermentati sulla longevità delle popolazioni bulgari ovviamente lui era un era di origine russa e qui è stata credo la prima volta che sia stato introdotto il concetto di probiotici gli studi avevano collegato un microbiota intestinale sano e modelli alimentari tradizionali dove erano normali gli alimenti erano normalmente inclusi alimenti e bevande fermentate rispetto alla riduzione di rischi di ansia o di depressione e lì fu mostrata una stretta connessione con la salute mentale gli studi più recenti poi hanno aperto la strada che collega l'alimentazione i cibi fermentati e probiotici al ruolo di modulazione del microbiota intestinale e il mantenimento delle funzioni vitali negli organismi e lo stato di benessere dall'immunità alla salute mentale dovremmo pensare al microbiota intestinale perfettamente in equilibrio con quello che è il microbiota dell'ambiente il microbiota animale perché vi dico questo perché vi ho parlato di alimenti vegetali importantissimi per il nostro microbiota intestinale però se un scusate è andato via tutto che è successo che è successo io ti vedo bene ma non so è apparso schermo nero sul tuo pc ti stai scoprendo il pc non lo so sarà successo qualcosa non ti preoccupare torna sulla presentazione powerpoint ok riprendo ho visto tutto nero mi sono impaurita è importantissimo quando parliamo di microbiota umano sapere che se è in perfetto equilibrio quindi con il microbiota dell'ambiente col microbiota animale e quindi è importantissimo anche quando assimiliamo degli alimenti prima parlavo di verdure che queste verdure per esempio siano prodotte in un certo modo perché se abbiamo delle verdure prodotte con dei pesticidi sappiamo già che quelle verdure hanno una minore quantità di batteri utili perché in modalità di produzione influenza anche questo aspetto quindi considererei e dovremmo considerare che c'è questo importante equilibrio poi sul microbiota appunto umano oltre diciamo a pesticidi e contaminanti ovviamente farmaci antibiotici hanno il loro peso tutto questo equilibrio e queste diciamo variabili in equilibrio sono quelle che poi determinano o patologie o salute e stato di benessere che sono due cose distinte noi possiamo stare in salute ma non sentirci particolarmente in forma ossia non abbiamo la delle patologie franche non siamo affetti a nessuna patologia ma non ci sentiamo particolarmente energici e attivi e poi c'è uno stato di salute più benessere in cui appunto ci sentiamo al massimo che cos'è la fermentazione la fermentazione la fermentazione è un processo biochimico che appunto durante il quale i microrganismi demoliscono delle sostanze quindi demoliscono gli zuccheri demoliscono le proteine ne sfruttano diciamo l'energia che contengono e questa viene operata da tutta una serie di batteri e di microrganismi perché non sono solo batteri abbiamo dei lieviti e possiamo avere delle muspe quindi durante questi processi di fermentazione noi possiamo caratterizzare in base ai prodotti che tipo di fermentazione abbiamo abbiamo di fronte generalmente i prodotti più tipici sono l'alcol e l'anidrite carbonica ad opera dei lieviti l'acido acetico ad opera di acetobatteri l'acido lattico da lattobacilli acido propionico da proprio batteri ammoniaca e acidi grassi da bacillus e muffe in generale i batteri acidolattici che includono il lactobacillus e lo streptococcus e il leuconostoc sono predominanti negli alimenti fermentati sono tra quelli che troviamo più facilmente Cosa cambia con la fermentazione? La fermentazione implica che questi microrganismi producano una serie di enzimi che sono enzimi che aiutano la digestione quindi sono enzimi che rompono i grassi che rompono le proteine che idrolizzano quindi vanno ad agire sui legami diciamo OH che sono dei legami chimici e quindi arrivano praticamente degli alimenti che sono già in parte predigeriti I generi comuni di funghi micelici in alimenti e bevande fermentate perché parliamo di alimenti fermentati ma anche di bevande fermentate vedete sono questa serie di Actinomucor, Actinomucor, Amilomyces, Aspergillus sono tendenzialmente dei funghi micelici e anche questi producono una serie di enzimi Beta galattasi, peptinasi, maltasi, invertasi sono tutti enzimi digestivi che quindi rendono quindi già abbiamo una prima parte di concetto che la fermentazione ci rende più digeribile Rispetto ai cibi conservati in scatolati quindi ci troviamo di fronte a dei cibi prevalentemente fermentati e cibi vivi con eccezione di qualcosa che poi vi posso dire o vi dico subito Ovviamente un pane fatto e cotto al forno fatto con lievito madre sarà avvantaggiato della fermentazione fatta con il lievito madre ma poi quando andiamo a cuocere ovviamente non troviamo più quei lieviti vivi Mentre questi lieviti, questi microrganismi vivi li troviamo invece nelle verdure fermentate perché lì si conservano e la fermentazione rende l'ambiente in ospitale a patogeni quindi l'acido lattico abbassa il pH dell'ambiente e delle verdure e questo è sufficiente ad inibire la formazione di patogeni muffe quando li vogliamo preparare in casa Gli alimenti fermentati vengono tradizionalmente apprezzati per la maggior conservabilità ma anche per le loro caratteristiche sensoriali Infatti uno dei motivi per cui si usa la fermentazione è perché se ne possono esaltare le caratteristiche sensoriali Di fatto noi possiamo fermentare tutti i tipi di alimenti anche se ne conosciamo alcuni che sono straordinariamente più comuni come lo yogurt che forse è l'alimento fermentato che è entrato facilmente nella nostra alimentazione Come per esempio per quello che riguarda le bevande, il vino, chi aveva la famiglia, le famiglie che vivevano in campagna o avevano delle aziende agricole erano soliti prodursi il vino da soli quindi quella è una fermentazione Poi sono diventati familiari per noi invece anche alimenti che provenivano dall'Asia quindi semi di soia e poi abbiamo altri tipi di alimenti come il kimchi Poi dopo vediamo il natto che è giapponese è sempre un derivato della soia gialla E si possono fermentare anche pesci crostacei e molluschi, i pesci fermentati sono abbastanza tipici anche della tradizione giapponese A seconda del tipo di fermentazione quindi possiamo distinguere la lattica, l'acetica e l'alcolica E tendenzialmente possiamo anche distinguere un altro piccolo aspetto Se la fermentazione è spontanea oppure la induciamo con uno starter Cioè con qualcosa che ci innesca la cultura e quindi ci innesca la fermentazione In alcuni casi quando le produzioni alimentari sono diciamo più strutturate non sono casalinghe spesso Cioè quindi ad opera di aziende che li producono sono spesso utilizzate le colonie batteriche o lieviti ben selezionati Per esempio un lievito selezionato è il saccharomyces cerdise per esempio per il discorso della fermentazione alcolica della birra Fermentazione perché? Storicamente come avete visto fino adesso ci siamo arrivati Quindi era un metodo di conservazione e quindi composti antimicrobici per esempio acidi organici, etanolo e batteriocine Funzionavano per conservare il cibo quando non c'erano altri metodi di conservazione La fermentazione, vedete, tutti possono essere fermentati una ripetizione Ma la fermentazione appunto abbiamo detto che aumenta anche le capacità organolettiche In particolare per esempio le olive, alimenti fermentati Se non fossero fermentati senza fermentazione non riusciremmo a rimuovere quelli che sono dei composti fenolici molto amari Che renderebbero poi l'alimento poco gradevole, le olive poco gradevole Anche la fermentazione abbiamo detto aumenta la shelf life dell'alimento Cioè ce lo conserva più a lungo Tra i batteri che hanno tipicamente attività antimicrobiche Vedete ci sono spesso batteri che sono lattobacilli E che producono specifiche batteriocine Questo ve lo faccio vedere così perché in alcuni casi certi lattobacilli per esempio isolati dal kimchi Che è uno degli alimenti fermentati di cui parleremo anche Hanno una forte attività antimicrobica per esempio con l'alisteria monocida Listeria è uno di quei patogeni che si può trovare per esempio nei salumi Ogni tanto si sente qualche salume contaminato da listeria oppure verso la salmonella Insomma diciamo l'attività antimicrobica è una delle caratteristiche importanti L'altra caratteristica importante è che questi alimenti fermentati Come vi dicevo sono sempre quelli diciamo su cui sono stati fatti gli studi Quindi li troviamo in chichè, figli, yogurt, cheese, kombucha o miso Che appunto è sempre un derivato della soia fermentato Contengono da 10 alla meno 6 Scusate da 10 alla sesta alla 10 alla 9 microbi per grandi Quindi vuol dire che c'è una gran parte di microorganismi E questi sopravvivono al tratto digestivo Tanto che si stima che l'ingestione di alimenti fermentati Abitudinario, quindi giornaliero, un consumo regolare Possa aumentare di 10.000 volte quello che è l'introduzione di queste specie batteriche Di fatto ci sono ancora, la domanda è Vivono, non vivono, vanno ad arricchire la flora batterica intestinale Ci sono diversi studi che sono ancora diciamo in atto Ci sono alcune ancora cose non troppo chiare Però sembrerebbe che gli alimenti fermentati Possano in qualche modo modulare quello che è il microbiota autofono E possano modificarne la funzionalità E quindi l'entità dei cambiamenti e l'importanza e l'efficacia probiotica di questi alimenti È ancora oggetto di studio Però ci sono delle indicazioni Per esempio come è stato dimostrato da questo lisco Che per esempio l'introduzione di questi alimenti fermentati in modo regolare Abbiamo aumentato la quantità di bifidobatterie e lattobacilli nelle felici Questa lista di Leoconostoc, Lactobacillus, Streptococctus, Pedicoccus, Micrococcus, Bacillus Sono le specie di lattobacilli fermentanti più comuni Mentre l'altra lista di Aspergillus, Pecilomyces, Cladosporium, Fusarium, Penicillum, Tricocetium Sono quelli più facilmente frequenti tra i generi dei funghi Andiamo a vedere ora, dopo aver introdotto un po' quelle che sono le specie Che noi possiamo trovare più comunemente Quali sono poi gli effetti potenziali e benefici Intanto per quello che è l'intestino Innanzitutto l'effetto fisiologico è quella di avere una competizione batterica con i patogeni E quindi una produzione di sottoprodotti di fermentazione Che possono avere un'attività immunoregolatoria e neurogenica Poi i metaboliti derivanti dalla fermentazione di batteri acidolattici Generano dei particolari peptidi bioattivi Che hanno potenzialità sia sulla salute cardiovascolare Che su quella immunitaria e metabolica Poi vi faccio vedere qualche studio e ci entro un po' in merito La fermentazione può anche convertire alcuni composti in metaboliti biologicamente attivi Per esempio i batteri lattici possono convertire dei composti fenolici Che sono degli antiossidanti come i flavonoidi E renderli in metaboliti biologicamente più attivi Quindi noi introduciamo un alimento O introduciamo un alimento che contiene degli antiossidanti come i flavonoidi E l'intestino ci può con la sua I microrganismi che sono contenuti all'interno Possono essere diciamo renderceli ancora più disponibili E questo avviene anche nell'alimento Cioè i microrganismi presenti nell'alimento Ci rendono i flavonoidi come metaboliti biologicamente più attivi La presenza di probiotici e vitamine che hanno benefici per la salute E la riduzione degli antifermentazioni può ridurre gli antinutrienti E qui parliamo di quelli che sono normalmente citati Che sono spesso i fita Che sono contenuti per esempio in cereali integrali Sono contenuti in alcuni semi Sono contenuti anche nei legumi E vengono diciamo considerate come sostanze Che possono appunto inibire l'assorbimento di micronutrienti importanti Come il calcio, come il ferro Quindi la fermentazione ci permette di assimilare Invece di rimuovere i fitati E quindi rendere più biodisponibili quelle sostanze E quei micronutrienti Non ultimo la riduzione del contenuto di carboidrati fermentabili Ora i FODMAP sono una specie di oligosaccaridi fermentabili Di saccaridi, monosaccaridi e polioli Che sono contenuti in una varietà di alimenti Frutta, verdura e certi tipi di cereali e di carboidrati Nei latticini E tutto questo può generare in intestini sensibili Quella sensazione di gonfiore e di dolore intestinale La fermentazione ci riduce questi FODMAP Rendendo gli alimenti che potenzialmente li contengono Più digeribili e più tollerabili Questo è un esempio per esempio Come la pasta madre possa effettivamente ridurre I disturbi intestinali procurati dall'ingestione Di cereali integrali con cui si fa il pane E ancora la fermentazione arricchisce il prodotto di alcune vitamine del gruppo B Incluso il folato che è la vitamina B9 Comunemente noto come acido folico Ma tendenzialmente si tende a fare la differenza tra folati e acido folico Perché i folati sono quelli che si trovano naturalmente negli alimenti L'acido folico è generalmente l'integratore La riboflavina, la vitamina B12 e la vitamina K2 Che è sintetizzata dalla fermentazione di vegetali E da parte di alcuni batteri La vitamina K2 ha assunto una particolare importanza recentemente Perché associata alla vitamina D Sembra potenziare la protezione per esempio sull'osso E quindi ha una rilevanza piuttosto importante Altri benefici che sono associati agli alimenti fermentati E ci sono degli studi più o meno forti Poi ne faccio una carrellata abbastanza rapida Sono, diciamo, gli effetti che sono stati documentati Sono la riduzione del colesterolo nel sangue Il potenziamento del sistema immunitario Come abbiamo già spesso detto Protezione degli antipatogeni, l'abbiamo detto E quindi riduzione del rischio anche di osteoporosi Diabete, obesità, allergie e aterosclerosi E ovviamente il miglioramento della digestione di alcuni componenti Per esempio l'intolleranza al lattosio Nelle persone che soffrono di questo problema Di questa intolleranza La fermentazione, vedremo, per esempio Dei latticini Può rendere tolleranti Questi alimenti a delle persone Che normalmente non sono tolleranti Per esempio al latte Qua c'è invece una bella serie Di una bella slide Dove abbiamo delle scritte in inglese Ma ve le traduco tutte Ed è una slide che vi serve Per far vedere i prodotti finali Cioè i microrganismi finali Che noi troviamo in ognuno di questi alimenti fermentati Cioè nel keffin, nel kombucha, nei krauti Nel tempe Che è un derivato anch'esso della soia Il natto che abbiamo detto Che è un prodotto di fermentazione della soia Tipico del Giappone Il miso tipico del Giappone E il kimchi che sono vegetali Diciamo provenienti dalla Corea E vedete a seconda della Qui c'è l'origine ovviamente A seconda diciamo della Di come è stata fatta la cultura Vedete o co-starter o spontanea Questa è la quantità di batteri E microrganismi finali che noi troviamo Guardate i krauti I semplici krauti E quindi una verdura fermentata Dico semplici perché è molto semplice Per esempio come preparazione questa Guardate che ricchezza di microrganismi ci dà Anche il tempe Per esempio per il natto non abbiamo dati possibili Il miso per esempio ha una ricchezza minore Rispetto veramente a quella che è una verdura Fermentata come i krauti I benefici che derivano da questi Per esempio dai latti fermentati Parlando di fermentazione del latte E quindi prodotti di fermentazione che possono essere Ce ne sono diverse di denominazioni di latti fermentati I più noti sono il kefir e sono lo yogurt ovviamente E vedete che In questo caso prevalentemente di lattobacilli E di tutta una serie di ceppi diversi di lattobacilli Ognuno di questi ceppi ha un ruolo piuttosto importante Per esempio alcuni sono abbiamo detto degli antagonisti Di altre specie patogene Per cui il fatto che ci sia non è trascurabile Tendenzialmente questi hanno anche un effetto antiossidante In quanto appunto ci ridanno con la fermentazione Ci ridanno composti fenolici Ci danno acido gamma-minobutirrico Che è un importante Viene definito diciamo un neurotrasmettitore della calma Perché agisce sul sistema nervoso Sull'eccitabilità del sistema nervoso centrale Alcuni tipi di peptidi L'acido linoleico coniugato Che è un importante diciamo componente alimentare Associato a benefici per la salute E la vitamina B9 Vedete che c'è anche documentato un effetto antipertensivo E questo è legato ad alcuni peptidi In particolare l'atto tripeptidi Che hanno un effetto su un enzima Che è un ace inibitore Questo l'avete sentito in particolare in questo periodo Perché si parlava in particolare Di questo degli ace inibitori Si parlava in associazione al covid Nell'inizio diciamo di questa pandemia Un aumento di quella che è la biodisponibilità Delle vitamine all'interno E questo l'abbiamo detto E un aumento della digeribilità anche delle proteine Abbiamo detto all'inizio Che effettivamente la fermentazione Iniziando a rompere Quindi già predigerisce al nostro posto È come se noi introducessimo un cibo Che già in parte è stato scomposto Poi il fatto di alleviare l'intolleranza al lattosio Perché per esempio Questo è il donkey milk Che allevia l'intolleranza al lattosio Perché appunto troviamo meno lattosio Ma questa è una caratteristica già degli yogurt e dei kefir Anche di latte vaccino E poi una certa attività probiotica Questi sono i composti che vi ho diciamo riassunto Che vi ho già nominato Vitamina B12 L'acido gamma Aminogamma butirrico Tutti i peptidi che possono avere Diciamo attività immunomodulatoria Che è l'acido linoleico coniugato Qui qualche studio clinico Che vi leggo Che cosa è stato fatto Per esempio Per quello che riguarda in generale Lo yogurt È stato valutato un effetto protettivo Per esempio per lo sviluppo del diabete di tipo 2 E per esempio Questo tipo di protezione È stata osservata Mangiando una porzione di yogurt al giorno E questo correlava in maniera Abbastanza importante Con inversamente con il diabete Che vuol dire che appunto Sembrava un alimento protettivo Ancora per quello che riguarda lo yogurt Di nuovo un altro studio Che attesta la stessa identica Diciamo correlazione Ossia consumo di yogurt Protezione verso il tipo di diabete 2 Ma vedete che anche questo FMD Che significa alimenti fermentati in genere Anche questi correlano in maniera negativa Sia con lo sviluppo del diabete Che con le patologie cardiovascolari Che con la mortalità in genere Quindi alimenti fermentati Che hanno una protezione in generale Ma questo che vi facevo vedere all'inizio Per esempio Un tipo di alimenti fermentato Su cui è stato fatto uno studio Riguardo alla protezione dell'obesità E vedete invece Per quello che riguarda la soia E la soia fermentata Un suo consumo trova una riduzione Del rischio cardiovascolare Perché? Perché diminuisce diciamo Il colesterolo totale E migliora il colesterolo HDL Ancora per quello che riguarda L'ipertensione Quello che vi dicevo Protezione verso l'ipertensione Perché si formano Dei particolari tripeptidi Che sono diciamo Dei prodotti di digestione Della caseina E questi sembrerebbero Associati all'effetto antipertensivo Ora posso dirvi Che per quello che riguarda L'effetto antipertensivo Per esempio Dei prodotti fermentati del latte Come il kefir E come lo yogurt È un pochino debole Gli studi ci sono Ma non sono particolarmente forti E invece alcune Diciamo associazioni Interessanti Sono state trovate Per esempio Per quello che riguarda L'aspetto Diciamo Della Diciamo Della Attenzione E dell'umore Ecco non mi veniva il termine E questo Per esempio Ci sono un paio di studi Uno che è stato fatto Diciamo sulle donne Che ha visto come Effettivamente Il consumo Di latte fermentato Yogurt O kefir In particolare Questo era kefir Migliorava in qualche modo Le emozioni Le sensazioni Se non erro Queste donne Erano Nella Piuttosto ampia Che è stata seguita Per vent'anni E il fatto che si trovi Da questa parte Significa che ha Un effetto Protettivo Per quello che riguarda Il peso corporeo Quindi Il consumo di yogurt Ancora In questo studio Predimed Su un bel numero Di partecipanti È stato associato A riduzione Per esempio Della circonferenza Addominale Quando parlo Di yogurt Tendenzialmente Parlo sempre Di yogurt naturale Perché Perché ovviamente È di yogurt Ricco di fermenti Perché ovviamente La quantità Di zuccheri All'interno Poi mi dà Altri problemi Nutrizionali E quindi Non Lasciamo perdere Gli yogurt Con Gli slogan Vita stretta Perché Poi alla fine Se L'alimento Non è Ben fatto E soprattutto Non è yogurt naturale Questi vantaggi Non li abbiamo E ancora Il rischio Di tipo Di diabete Di tipo 2 Ancora Per lo yogurt E ancora Lo yogurt Che In una corte Abbastanza importante Di volontari Questo era Un epic Nello studio Di corte Della epic Che è Un grosso studio Diciamo A livello europeo Che coinvolge Grossi numeri Di persone È emerso Un effetto Protettivo Antitumorale Dello yogurt Quando Notizia Pratica E nozione Pratica Sono pur Sempre una Nutrizionista Meglio il latte E lo yogurt Siamo Diciamo Una Popolazione Che Attinge Molto I latticini E Si cresce Molto Con questo Concetto Che il latte Sia un alimento Imperdibile E indispensabile Per la crescita Senza Voler spezzare Una lancia Pro Contro Vi dico Semplicemente Che il latte È un alimento Che deve essere Prodotto Comunque Non in modo Intensivo Dagli allevamenti Intensivi Perché altrimenti Ci becchiamo Anche Tante sostanze Che sono Anche Indesiderate Come per esempio Degli estrogeni Perché gli animali Sono tenuti Diciamo In condizioni Che non sono Diciamo Ottimali Per avere Un buon prodotto In realtà Però Anche per i bambini Ci sarebbe Una Buona Diciamo Indicazione Per esempio Yogurt naturale Rispetto al latte Perché Per esempio Hanno un'anticapacità Per esempio antiossidante Maggiore E questo è dovuto Appunto a quel rilascio Di quei famosi Peptidi bioattivi Ed è I conseguenti Diciamo Alla proteolisi Quindi alla rottura Delle proteine In particolare Della lattoalbumina Betaalbumina E della caseina La caseina L'alfacaseina È una di quelle Proteine Diciamo Presenti Nel latte A cui sono associati Tutta una serie Di pensieri Non sempre molto Positivi Per la salute Nello yogurt E noi li abbiamo Degradati Diciamo Dalla Fermentazione Poi Nello yogurt Prodotto Con uno specifico Latto bacillo casei Vedete Il pc16 C'è un potere Per esempio Antiossidante Maggiore Rispetto a un altro Tipo di ceppo E le proprietà Antiossidanti Dei latte Fermentati Dello yogurt Aumentano Anche La produzione Di quell'acido Linoleico Coniugato Che è Importantissimo Perché È associato A tutta una serie Di benefici Per la salute Tra cui Diciamo Anche Antitumorali Il calcio È maggiormente Biodisponibile La fermentazione Ci permette Ci ridà Indietro Dei micronutrienti Più facilmente Assimilabili Per cui Se noi dovessimo Dire cosa è meglio Per assumere Il calcio È meglio Lo yogurt Rispetto al latte Grazie alla fermentazione Appunto Il lattosio Viene parzialmente Digerito Quindi Lo yogurt Per esempio Il kefir Sono particolarmente Tolerate Gli altri Sono intolleranti Al lattosio Poi Queste sono Altre caratteristiche E anche La vitamina B Scusate B2 Manca un 1 B12 Ah no B2 B12 C'è Ok Magnesio Potassi Zinco Sono maggiormente Assimilabili I bambini Che consumano Yogurt E questo È un studio Diciamo Un pochino Retrodatato Perché era Del 2007 Hanno Un miglior Microbiota E controllano Meglio Il peso Corporeo Negli adulti È associato A minore Diciamo Incidenza Di patologie Ho già Accennato Il discorso Dei peptidi Bioattivi Quindi Ci sorvolerei Però Vi dicevo Che questo Effetto Antipertensivo È proprio Legato A questi Particolari Tripeptidi Che sono La vanilprolilprolina E l'isoleocilprolilprolina Da fermentazione Dei prodotti Lattico Lattiero Caseari Voi dite Tutte queste Nozioni Come ce le Ricordiamo Ma io direi Che questi Sono tutti I messaggi Ricordatevi Delle cose Importanti Voi dite Se io Ho un prodotto Raw Cioè Ho un prodotto Tipo latte È un prodotto Della sua Fermentazione A questo punto Che cos'è Qual è il vantaggio Cosa Cosa devo preferire Sicuramente Il prodotto Di fermentazione È migliore E per esempio Tanto per farvi vedere Dei parametri Clinici Questo è stato fatto Per esempio Mangiando il consumo Di prodotti Che sono Formati Fermentati O yogurt Naturale Prodotti Di fermentazione Due cose Volevo farvi notare Che per esempio Chi consuma Yogurt Per esempio C'è Questo Accermansia Che è O scusate Che è un batterio Un micro Sì Un batterio Che è particolarmente Associato a Diciamo Un buono stato di salute Dagli ultimi studi Del microbiota Che nei consumatori Diciamo Abituali Di yogurt È Maggiore E poi Questa presenza Diciamo Maggiore Di acidi grassi A catena corta Nei consumatori Abituali Qui di formaggio Per esempio Fermentato E Prevalentemente Questo E l'acetato Nello yogurt Quindi Ci sono Dei vantaggi In quella Che è Poi La Colonizzazione Nel livello Intestinale Ma anche Nei parametri Clinici Per esempio In questo studio Avevano valutato L'effetto Di un parametro Ossidativo E di un parametro Infiammatorio Che è la CPR I consumatori Per esempio Di yogurt naturale Hanno Valori Significativamente Più bassi Rispetto ai Non consumatori Di questa proteina Cereattiva Che è un po' Diciamo Un marker Generale Di infiammazione Entriamo in merito Al prodotto Proprio Che differenza C'è Io sono Una grossa Non sostenitrice Della galletta Perché per me Scusatemi Me ne prendo Tutta la responsabilità È proprio Diciamo L'indice Dell'alimento Morto Lo vedete lì Cioè Mentre A sinistra Vedete Questa pagnotta Di pane Con Tutti Diciamo I limiti Delle persone Che non sono Appassionate Ai carboidrati Però Avendo due fonti Di carboidrati Una Una fonte Di carboidrato Che è stato prodotto Appunto Con fermenti vivi Perché è un pane Prodotto con lievito madre E questa è una galletta Dove di vivo Non c'è più nulla E questo È importantissimo Perché per esempio Negli studi sul pane Fatti con lievito madre Mirati a valutare Come potevano variare I disturbi I calcio intestinali Si è visto Che per esempio Sono piccoli studi Alcuni randomizzati Sono in crossover Però non sono Grosse numerosità Però ci danno Delle indicazioni Per esempio 145 grammi Di pane integrale In uno studio Fatto con lievito madre Verso Un gruppo di controllo Che mangiava Invece Meno pane 110 grammi Bianco Non lievitato Con lievito madre Ma con lievitazione Diciamo chimica Per la durata Di una settimana È stato lo studio Sono stati osservati Si è dimostrata Una significativa Risposta interpersonale Su quello che era Diciamo La risposta glicemica Cioè Le glicemie Erano In maniera variabile Da un individuo all'altro Tendevano A essere più basse Nei soggetti Che avevano Mangiato pane integrale E anche nel caso Diciamo Del microbiota Il tipo di pane Risultava In un indice Di Minore indice Glicemico In risposta Ad ogni partecipante L'ho detto Molto male Però Insomma In sostanza Abbiamo osservato In questo studio Ha osservato Che c'era Una minore Glicemia In chi ha mangiato Pane integrale Con lievito magre Pur avendone Mangiato di più Questo non è Un'incitazione A mangiare più pane Anche chi se ne frega Ma è solo Per farvi vedere Come molte volte Non è la quantità Ma è la qualità Del prodotto Che fa la differenza Questo studio sotto Mi interessa Perché è stato fatto Valutando per esempio Croissant Che sono fatti E stati fatti Con lievito madre E mangiando Due croissant Con lievito madre O mangiando Due croissant Fatti con lievito Di birra Singolo studio Si dimostra Una diminuzione Per esempio Di quelli che sono Gli effetti Del gonfiore Da post consumo E per esempio La velocità Di svuotamento Gastrico A favore Di quelli che sono Croissant Fatti con lievito madre E ancora Meno sintomi Gastrointestinali Per esempio Mangiando Del pane Fatto con Segale Intera 6-10 fette Rispetto a un pane Che è stato Bioprocessato E arricchito Con alimenti Fermentati Perché spesso La fermentazione E i fermenti Vengono inseriti Anche qui Vantaggi Non Diciamo Significativi Per quello Che riguarda Diciamo Il tempo 30-60-120 In cui erano Standardizzati I passi E invece Sono state trovate Delle differenze Significative In quelle che erano Diciamo Il Breast Cioè Il test Che viene fatto Per valutare Il profilo Diciamo Del Lattosio Che viene Eliminato Per quello Che riguarda Invece L'impatto Degli alimenti Fermentati Sulle funzioni Cognitive Come vi avevo Citato prima Il tofu Il tempe Il tau Che sono Alimenti Che contengono Ginsteina Sono stati Valutati Per esempio In una popolazione Di 115 persone In questo caso È stato Osservato Un effetto Positivo Nella riduzione Della depressione Nei soggetti Che erano Di mezza età Perché vedete L'età andava Da 52 A 98 Mentre Nelle persone Più anziane Questo effetto Non è stato Diciamo Riscontrato Quindi un effetto Visibile Solo in Una In soggetti Che erano Meno anziani E ancora Per quello Che riguarda Per esempio Sempre Patologie Che riguardano Le funzioni Le funzioni Cognitive Il consumo Di latti Fermentati Migliora Le funzionalità Cognitive Sempre parlando Di persone Di mezza età Mentre Il consumo Di alimenti Probiotici Come del latte Fermentato Come del kefir Migliora Le funzioni Cognitive In pazienti D'Alzheimer Questo è uno Studio Che è stato Fatto Utilizzando Latti Fermentati Con Bifidobatterium Bifidus Il casei Il fermentum E l'acidofilus Un altro Aspetto Importante Della fermentazione È che Con la fermentazione Rimuoviamo Una serie Di contaminanti In particolare Quelli Che possono Essere Pesticidi Organofosfati Che finiscono O che sono Presenti Nell'alimento E anche Per esempio Metalli pesanti Come il cadmio La presenza Dei microrganismi È in grado Di metabolizzare E quindi Questo è un altro Aspetto importante Sebbene Io raccomandi Sempre Di non Incappare Nel rischio Di partire Con delle materie Prime Qualora Ci attrezziamo Per fare Le fermentati In casa Delle materie Prime Che provengano Da Coltivazioni Che siano Coltivazioni Di pesticidi Ma io Spingo Sempre Consiglio Alle persone Di utilizzare Prodotti Che vengono Fatti Con agricoltura Biologica Agricoltura Biodinamica Agricoltura Sostenibile Come la volete Chiamare Comunque Che non Utilizzano Pesticidi Sistemici Questo Questo è Uno Degli ultimi Studi Uscito Proprio In questi Giorni Perché Vi dicevo Come Ancora Si è Abbastanza Discusso Se Mangiare Alimenti Fermentati Ci arricchisce O No Il nostro Microbiota Intestinale In realtà Questo Studio È stato Effettuato Su 21.674 Partecipanti E Cosa Insoldoni Ha Valutato Ha valutato Tra i Partecipanti Sono stati Diciamo Divisi In varie Categorie Di Consumatori Diciamo Abituali E giornalieri Di alimenti Fermentati Occasionali Rari O persone Che non Le consumano Mai Sono stati Messi a Confronto I vari Microbiota E hanno Cosa Trovato Lo studio Del microbiota È uno Studio Diciamo Piuttosto Complesso Non ho messo Qui le slide Non ho messo Figure Per non Complicare Troppo La vita In realtà Hanno trovato Maggiore Beta Diversità Quindi Un arricchimento Maggiori Concentrazioni Di Quell'acido Rinoleico Coniugato Nei Consumatori Abituali Di Verdure Fermentate Ora Gli acidi L'acido Rinoleico Coniugato Normalmente È Prodotto Dalla Fermentazione Batterica Dei Ruminanti Ed Influenza La Composizione Degli Acidi Grassi Delle Carni In realtà In questo Studio Hanno valutato Che Non c'era Relazione Perché C'era Il Questionario Alimentare Tra L'acido Linoleico Coniugato Presente Nelle Feci Dei Consumatori Abituali Con Quello Che avevano Mangiato Quindi In termini Di Carni Pertanto Lo studio Ha concluso Che In realtà Era La Presenza Maggiore Di Lattobacilli Che Avevano Che Sono In grado Di Produrre Acido Linoleico Coniugato E Quindi Questo Era Derivato Dalla Ricchezza Maggiore Di Queste Specie E Non Tanto Dalle Fonti Alimentari E Non Dalle Fonti Alimentari Di Carni Questo È Un Tema Abbastanza Importante Perché Appunto Dicevamo Se O No Gli Alimenti Fermentati Possono In Qualche Modulare In Maniera Importante Da Questo Studio Emergerebbe Appunto Un'indicazione Importante E Qui È Relativa Proprio A Le Verdure Fermentate Tutti Gli Alimenti Si Possono Fermentare E Quindi La Fermentazione È Tanto Antica Quanto Semplice In Realtà Non Richiede Grosso Dispendio Né Di Energia E Ne Anche Di Economica Oltretutto C'è anche Un altro Aspetto Per E Per Che In Termini Di Sprechi Alimentari La Fermentazione Ci Permette Di Recuperare Anche Parte Per E Di Foglie Esterne Che Magari Non Decidiamo Di Non Di Non Mangiare Perché Magari Sono Un Pochino Più Dure E Possono Essere Nesse A Fermentare E Quindi Resi Appunto Più Digeribili E Gradevoli Dalla Fermentazione E Quindi Vedete Come Per Esempio Si Possano Fermentare Tutti I Tipi Di Vegetali E Possono Essere Fermentate Anche Limoni Banane Sussine Una Delle Diciamo Dei Fermentati Più Tipici Della Mia Zona Delle Marche Per E E E La Famosa Giardiniera Che È Tradizione Da Fare Altro Non È Che In Effetti Una Verdura Conservata In Una Salamoia Fermentata In Una Salamoia Mentre Ok Questo Lo Passo Mentre Altri Questo Perché Ecco Mentre Diciamo Nella Fermentazione Mi è saltata Una slide Scusate Mi sono Mi è andata Un pochino In Tista Non me la Ritrovo Il mio Mentre Ok Vado Salto Direttamente Nel dirvi che Nelle Fermentazioni Una cosa Molto Importante Quelle fatte In acqua Salata Quindi Mi ricollego A quelle Che sono Diciamo La Giardiniera Quindi una Fermentazione Fatta In Salamoia Una Delle Diciamo Delle Fondamentali Ingredienti È Il Sale Chiaramente La scelta Del sale È Abbastanza Importante Sapete Come In Realtà Per Il Contrastare L'ipotiroidismo Spesso Abbiamo Sale Arricchito Di Iodio Bene Per Fare In Dece Una Fermentazione Che Funzioni Bene È Meglio Non Utilizzare Sale Iodato Ma Sale Integrale Marino Perché Lo Iodio È Un Grosso Inibitore Delle Culture Batteriche Quindi Il Sale Da Scegliere Non Sarà Quello Iodato In Questo Caso Bisogna Fare Abbastanza Attenzione L'aggiunta Di Sale È Già Sufficiente A Estrarre L'acqua Dalle Verdure Che Devono Poi Essere Utilizzate Come Vi Dicevo Preferibilmente Biologiche Appena Raccolte E Sulle Piante Già Vivono Prevalentemente Tutta una Sere Di Micro Organismi Per E Leuconostoc Che vi Avevo Già Citato Prima Lactobacillum Plantarum Fermentum Brevis Tutti i Tipi Di Lactobacilli Che Sono Normalmente Presenti Come Contaminanti Anche Anche I Coliformi Sono Tutti Presenti Già Sulle Piante Il Processo Avviene Per Un Avvicendarsi Di Diversi Microrganismi Ora Quando c'è Questo Mare Di Cultura Ovviamente Anche Specie Fungine Specie Diciamo Batteriche Cooperano In Sinergia E C'è Tutta Una Sere Di Processi E Quindi È Per Questo Che L'alimento È Molto Vivo Perché C'è Veramente Un Fermento All'interno Mano A Mano Che Come Vi Avevo Già Detto Che L'ambiente Diventa Acido E pH Scende Iniziano A Svilupparsi Lattobacilli E Quindi Il pH Si Porterà A 4 E Questa Acidità È Quella Che Ci Garantisce Appunto Sia Dal Punto Di Vista Organolettico Le Caratteristiche Migliori Ma Anche La Migliore Digeribilità E Anche La Protezione Verso Patogeni Che Possono Contaminare Le Olive Fermentate Ve le Avevo Già Citate Prime Due Tipi Che Sono Quella Spagnola E Quella Greca Ma Ci Sono Anche Delle Olive Fermentate Per Exempio Originare Della Puglia Che Sono Piuttosto Caratteristiche Sono Uno Degli Alimenti Diciamo Abbastanza Tipici Dell Dell' Altri Diciamo Alimenti Fermentati Che Sono Diventati Un Po' Più Noti Negli Ultimi Anni Con L'introduzione Nel Mercato Alimentare Anche Di Alimenti Che Sono Di Origine Asiatica O Di Origine Orientale È Per E Il Tè Kombucha Che Deriva Appunto Dalla Fermentazione Del Tè Mediante L'utilizzo Di Aceto Batterie Di Lieviti Il Tè Kombucha È Stato Dimostrato Agire Avere Diciamo Un Effetto A livello Digestivo Qualche Studio Non Tutti Sono Studi In Vivo Qualche Studio Condotto In Vitro Dimostra Che Abbiano Un'azione Limitiva Per Esempio Su Quelle Che Sono Le Ulcerazioni Delle Cellule Gastriche E Quindi Per Questo Viene Anche Diciamo Indicato Come Un Facilitatore Della Digestione Ma Che Migliora Anche Diciamo Oltre La Digestione Anche La Glicemia Avendo Un Effetto Iporglicemizzante Ha Un Effetto Sulla Colesterolemia E Questo Sembrerebbe Legato All'acido Disaccarido 1,4 Lattone Che Viene Prodotto Da Dei Glucono Batteri Appunto Che Sono Presenti O Su Quello Che Riguarda Il Tè Kombucha Gli Studi Sono Molti In Vitro Non Ci Sono Molti Studi In Vivo Però Tutto Sommato Ci Sono Delle Buone Indicazioni Molti Studi Sono Stati Fatti Sul Kefir E Sul Kefir Abbiamo Vi Ho Già Mostrato Prima Effettivamente Tutta Una Serie Di Studi E Quindi Ci Passo Abbastanza Velocemente E Chiaro Partendo Da Granuli Di Kefir E Fare Un' Autoproduzione Di Kefir Si Traduce In Una Moltiplicazione Enorme Di Specie Microbiche Che Possiamo Trovare Dentro Chiaramente Adesso È Diventato Un Alimento Abbastanza Popolare Quindi Noi Troviamo Il Kefir Lo Possiamo Acquistare Però Rispetto A Un Kefir Che Noi Acquistiamo Quello Autoprodotto È Molto Più Ricco Il Pane Con Lievito Madre Vi Dicevo Fa Parte Di Alimenti Che Beneficiano Della Lievitazione Quindi Della Digestione Dei Microrganismi Però Non Ritroviamo Questi Microrganismi All'interno Perché Con La Cottura In Parte Ovviamente Ne Perdiamo Il Kefir D'acqua È Un'altra Modalità Per 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 Assumere Microrganismi E Arricchire Diciamo L'alimentazione Con Delle Bevande Fermentate Per Chi Non Beve Latte Per Chi Non Beve Kefir Non Beve Yogurt E È Una Sostanza Che Praticamente Sfrutta La Fermentazione Alcolica Degli Zuccheri Quindi Ha Un Sapore Leggermente Frizzante Devo Dire Che Il Sapore Leggermente Frizzante Ce L'ha Anche Kefir Il Kefir Di Autoproduzione Vi Accorgete Se Un Kefir Ricco Di Specie Quando Lo Bevete Perché Ha Il Sapore Un Po Sino Frizzante Lo Sentite Un Pochino Pizzicare Nella Lingua Questo Avviene Anche Anche Per Il Kefir D'acqua E Si Parte Da Una Base Zuccherina Chiaramente Per i Più Rigidi Io Utilizzo Una Percentuale Di Base Zuccherina Dove Zucchero Qui Vuol Dire Una Fonte Di Zuccheri Che Può Essere Frutta Secca Dattero Possono Essere Fichi Può Essere Un Pochino Di Miele Ci Sono Persone Che Utilizzano Una Percentuale Maggiore Io Ho Visto Che Riesco A Produrlo Anche Avendo Una Concentrazione Dell'1% Tendo A Tenere Comunque Sempre Un Pochino Basso Gli Zuccheri Poi Il Kefir D'acqua Può Essere Insaporito E Arricchito Con Tutta Una Serie Di Foglie Fresche Di Spezie Di Erbe Aromatiche E Diventano Delle Bevande Dissecanti E Appunto Anche Regolanti Il Miso È Uno Degli Alimenti Diciamo Abbastanza Tipici Orientali E Deriva Dalla Fermentazione Dei Grani Di Soia Gialla Ed È Diciamo Un Prodotto Ormai Abbastanza Noto Anche Nella Nostra Alimentazione Però Diciamo Nel Caso Di Una Fermentazione Naturale Quindi Se La Fermentazione Richiede Da 12 A 24 Mesi E Produce Diciamo Una pasta Piuttosto Ricca Di Fermenti Che È Molto Simile Allo Yogurt Tendenzialmente Si Utilizza Crudo Per Non Distruggere Appunto I Fermenti E La Ricchezza Di Fermenti Che Ci Sono All'interno E Si Può Aggiungere Diciamo A Delle Minestre O In Generale Per Insaporire Delle Verdure O Il Tofu Tra Le Proprietà Terapeutiche Del Miso Sembra Che Ci Sia Quella Di Risanare Un Po Il Tubo Digerente E Quindi In Alcune Indicazioni Viene Anche Dato Quando Ci Sono Danni Per E Da Radioterapia Da Radioterapia Un Altro Alimento Fermentato Che Diciamo È Di Origine Giapponese Sono Le Prugne Umeboshi Le Prugne Umeboshi Sono Un Prodotto Molto Ricco Di Sale Che Producono Una Particolare Diciamo Succo Che È L'acidulato Di Umeboshi Bene Questo Acidulato Provinente Appunto Da Queste Prugne Fermentate Ha Una Capacità Cicatrizzante Molto Elevata Per Esempio Viene Utilizzato Anche Per Fare Degli Sciacqui Quando Sono Presenti Delle Ulcere E Questo È Legato Anche Appunto Alla Capacità Diciamo Dei Microrganismi Che Sono All'interno Di Cicatrizzare Concludendo Quindi Su Quelli Che Possono Essere I Benefici E Le Diciamo I Fatti Certi Del Consumo Di Prodotti Fermentati Di Autoproduzione Sicuramente È Meglio Abbiamo Visto Perché Sicuramente Possiamo Gestire Diciamo Sia La Scelta Della Materia Prima E Sia Possiamo Arricchire Ancora Di Più Quello Che Noi Produciamo La Ricchezza In Probiotici Appunto La Ricchezza Di Enzimi Che Aumentano La Digeribilità L'aumentata Bios Disponibilità Dei Nutrienti E Un Miglioramento Dei Processi Digestivi Perché In Gran Parte Noi Abbiamo Degli Alimenti Che Sono Già Stati Digeriti Mi Fermerei E Ridarei La Voce Al Moderatore Grazie Emilia Renata Stanno Arrivando Veramente Tantissimi Complimenti Da Parto Del Pubblico Io Adesso Accedo Sono Delle Bugie Dici No Ho detto Non dire Le bugie No 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 Non Non Dico Mai Bugie Lascia pure Quest'ultima Slide Slide Che Molto Bella Lasciamo Quest'ultima Slide Aspetta Che ci torno All'ultima Slide Che è Questa E la Rimettiamo Su Intanto Cristina Se tu sei Pronta Ti Lascio La Parola Per Fare Un Ringraziamento Prima Della Chiusura E Anche Per Annunciare I Tuoi Prossimi Appuntamenti Ti devo solo Trovare Nell'elenco Dei partecipanti Eccoti Eccomi qui Grazie Grazie davvero Renata Grazie a tutti Una serata Anche questa Molto Molto Ricca Abbiamo tutti Imparato Credo Un sacco Di cose E abbiamo messo In fila Un po' Di cose Ma li Sapevamo Però un pezzo Qua Un pezzo Là Invece Messi Bene In fila Così Ci Ci danno Modo Di lavorarci Sopra E di Usare Di mettere In pratica Quanto Ci hai Raccontato Con molta Precisione E un supporto Scientifico Davvero Importante La cosa Mi fa molto Piacere Vedere Che negli ultimi Anni Stanno andando Fuori Molti Lavori Sui Grandi Numeri Cioè Su Popolazione Ampia E quindi Molto Robusti Cosa Che è Molto Costosa E molto Richiede Tempo E risorse Quindi Non è Facile Invece Posso Lanciarti Una sfida Facciamo Lo studio Facciamo La broada Come si chiama Volentieri La broada La broada No perché Quello Ma No no Ma molto Volentieri Ma insomma Ci sarebbe Veramente Tanto Da fare Ma anche Per valorizzare Questi prodotti Ma adesso Io l'ho detto Prima un po' Come battuta Qualcuno Giustamente Ha scritto Anche il cotechino Il musetto Nel musetto Nel nostro Caso È un fermentato Chiaro Che gli insaccati Sono fermentati Anche loro Però insomma È un po' Più difficile Raccomandarli Come consumo Quotidiano Però La broada Che sta considerata Un prodotto Se vuoi Ok Tradizionale Ma anche abbastanza Povero Abbastanza Pesante Sta ritornando In bonga Magari un po' Più invernale Però È Riscoprendo Che è un prodotto Salutare Se è consumato In un certo modo Non è che Lo devi per forza Mangiare Con appunto L'accompagnamento Del maiale Quindi è una bella Valorizzazione Di un prodotto Povero Come la rapa Assolutamente Assolutamente Interessante La cosa che io Anticipo soltanto Poi lascio spazio Alle domande Noi faremo La settimana prossima Manderemo una mail Non vi so dire adesso La giornata precisa Un momento Con Renata Dedicato ai soci IAPRUVIVENZIA Giulia Per domande E risposte Riceverete tutti la mail Quindi non abbiamo Ancora definito la data Ma ve la manderemo Non è che siamo cattivi Che lo riserviamo Solo ai soci IAPRUVIVENZIA Giulia Però visto che C'erano tante domande Ho detto Vabbè dai un angolino Ce lo riserviamo Mi taccio Ringrazio di nuovo tutti E lascio invece spazio Alle domande Che Francesco Sta già raccogliendo E sono copiose Perfetto Grazie mille Cristina Renata Tu riesci a condividere La tua webcam Ah scusami Pensavo Di non aver fatto nulla Aspetta Eccomi No te l'ho tolta io Durante Eccoti qua Eccoti Eccoti Allora Stanno piovendo Veramente domande Ma col fatto che Sono già Le sette e un quarto Direi di fare Un ultimo quarto d'ora Per chiudere le sette e trenta Allora Giuseppe ti aveva fatto I complimenti E una domanda Ma vedo che si è sconnesso Quindi Peggio per Giuseppe Passiamo alla domanda Di Se non è più In online Allora Salvatore ci chiede Dove possiamo trovare Questi alimenti Tipo il chiefer naturale Il tè fermentato Il tempero Allora Beh Questi alimenti Sono diventati Diciamo Tipici Di Per esempio Di negozi Biologici Perché sono La fonte Di proteine Per l'alimentazione Vegana Però Ribadisco il concetto Che ovviamente Tutti gli effetti Di cui parliamo Sicuramente Sono migliori E si vedono Meglio Se noi Autoproduciamo Certi prodotti Quindi comunque Si trova Si trovano Insomma Il tempo Si trova Si trovano Diversi Diciamo Il chiefer Si trova Sia d'acqua Già preparato Nei negozi Ma anche Nelle Diciamo Nelle grandi Distribuzioni Ci sono Dei chiefer Poi Il fatto Che contengano Tutti quei Microrganismi Che citavo Questo Diciamo Probabilmente Non sarà Uguale Bisogna anche Pensare Che certe cose Che ci autoproduciamo Sono sicuramente Un po' Più ricche Perché Sicuramente Insomma L'autoproduzione È migliore Perfetto Grazie mille Allora Io prima ho detto Che Giuseppe Era scappato Quindi peggio per lui Io ti confermo Che è scappato Però ci sono Un altro paio Di Giuseppe Almeno che sono Connessi Che mi stanno Dicendo Ma come ci sono Allora Torniamo alle domande Giuseppe Uno Due Tre Bisogna Esatto Esatto Io tendo a non dire Mai i cognomi Ma Insomma Dai Vittiamola così Faccio Ti faccio una domanda Di Sonia Che ci chiede Dottoressa Tutto interessantissimo Intanto Per fare lo yogurt I fermenti che si comprano In farmacia Vanno bene Quelli con i due Classici batteri Allora ci sono Quelli sono La denominazione Yogurt Nel senso Che lo yogurt Per Diciamo L'EFSA La Come dire La normato E ci sono Quei due Batteri Specifici Però Diciamo Per fare uno yogurt Un po' più ricco Bisognerebbe partire Da Delle Popolazioni Un pochino Più Più Ampie E non farei uno yogurt Farei un kefir Per Autoprodurre il kefir Che quindi è una forma Di yogurt Un po' più fermentato Esistono i granuli Che si possono Acquistare Oppure Esistono Anche Delle soluzioni Liofilizzate Che hanno Diciamo Un mix Di fermenti Anche in quel caso lì È meglio Acquistare i granuli Quindi i granuli Si trovano E si possono Acquistare Anche via internet E io sono Sono quelli Che io consiglio Sempre per una ricchezza Non intendo dire Cioè diciamo Uno yogurt fatto Con i due base Va bene Però diciamo Poi non è Non sono Non è particolarmente Ricco di microrganismi Mentre il kefir È ancora Meglio Diciamo Rispetto a uno yogurt Perfetto Grazie mille Visto che noi Siamo Di in idea Per chi non ci conoscesse Quindi parliamo Principalmente Ad un pubblico Di enology Quindi ottimo E visto che c'è un pubblico Abbastanza Tecnico Mi chiedono Per esempio Antonio Mi chiede Se ci sono degli studi Su La differenza A livello Di un vino Autoprodotto Quindi da fermentazione Spontanea Rispetto ad un vino Commerciale Fatto con inoculo Allora Non il confronto Ma se non erro Uno studio Che indicava Diciamo Degli effetti benefici Anche del vino Fermentato Naturalmente C'era Però non c'era Il confronto Con il vino Diciamo Non fermentato Non autoprodotto Quindi Manca questo Almeno Che io sappia Poi magari È anche uno stimolo Per andare a cercare Meglio E nel caso Se lascia Diciamo Un indirizzo Poi tramite voi Glielo posso mandare Uno studio Quindi io Avevo solo presente Uno studio In particolare In cui si Vantavano Anche i benefici Diciamo Del vino Fermentato Anche Soprattutto Se Rosso Autoprodotto Anche per la Disponibilità Diciamo Dei possibili Polifenoli Che sono all'interno Tipo anche Il resferatrolo Perfetto Grazie mille Allora 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 Intanto Per chi mi chiede Per le registrazioni E le slide So che A breve Probabilmente Nelle prossime settimane IAB Metterà Sul loro Canale IAB Friuli Venezia Giulia Metterà Sul loro Canale YouTube Le registrazioni Di questi webinar Correnata E di altri Dei precedenti Che abbiamo Organizzato Con loro Mentre Per il pubblico Dianology Che ci sta seguendo La maggior parte Dei webinar Che facciamo Hanno le registrazioni Che potete trovare Su Infowine Dipende Da webinar A webinar Non tutti I webinar Non per tutti I webinar Mettiamo a disposizione Le registrazioni Quanto meno Gratuitamente Allora Domanda di Nicola Un po' così Al di fuori Ma anche io Sono interessato In questa Quindi la leggi Mi chiede I peperoncini Piccanti Migliorano i processi Digestivi O migliorano Qualcosa In generale Sì No Diciamo che Al peperoncino Sono state attribuite Moltissime Diciamo Proprietà Legate alla Capsicina Antinfiammatorie Antielicobacter Pertilori Antitumorali Antinfiammatorie Quindi Sì Hanno diverse Proprietà E quindi Sono una cosa Da inserire Nell'alimentazione Ci sono piccole Diciamo Controindicazioni Poche Controindicazioni Ma Molte indicazioni Ha utilizzato Perfetto Grazie mille Mamma mia Quante domande Che stanno arrivando Tra l'altro Cristina mi dice Ti metto anche Delle domande Quindi no Cristina Ci sono tantissime domande Non farne pure tu Perché se no Qua Come ha detto Cristina Concordiamo Adesso E facciamo Risponde a domande E facciamo Un commentone Su tutte le domande Fatte Perfetto Quelli che non riusciamo A rispondere A cui non riusciamo A rispondere Ma guarda Secondo me Neanche Nel prossimo appuntamento Riusci a rispondere a tutti Perché siamo Nella prossima vita Allora Non siamo In tantissimi Cioè Siamo tantissimi Per essere Alle 7.30 Di venerdì sera Sia chiaro Non siamo tantissimi Rispetto al solito Ma visto che Chi è rimasto Fino adesso Sono sicuramente Quelle più interessate Mi stanno bombardando Di domande Io cerco di starvi dietro Ma vediamo Come fare In caso Tanto recuperate Il prossimo appuntamento Allora Alessandra mi chiede Gli alimenti fermentati Non possono contenere Tossine O microorganismi patogeni Come si può Controllarli Ed eventualmente Eliminarli Allora Il discorso Per esempio Per quello che riguardava Le verdure L'avevo detto Quando c'è La fermentazione lattica E si produce Acido lattico Abbassa molto Il pH E quello già È un conservante Quando per esempio Parlamo di verdure Fermentate Quindi in quel caso Noi abbiamo Già una prevenzione Poi ovviamente Per tutto Il discorso Delle culture Batteriche Per altri tipi Di fermentazione Certo la possibilità Per esempio Nel kombucha C'è possibilità Di avere Delle contaminazioni Quindi Ci sono Tutta una serie Di sistemi Bisognerebbe Parlarne Diciamo In un'altra puntata Magari Perché sono Perché sono Nella preparazione Nel monitoraggio Nel controllo Ed è piuttosto lunga Diciamo Come Come risposta Quindi diciamo Dipende dal prodotto Fermentato Tendenzialmente In quelle L'acidoattiche Dove ci sono Lattobacilli Il pH Basso È già Un Un buon Indicatore Chiaramente Se uno Osserva In superficie Delle cose Diciamo Della presenza Di aggregati O cose strane Chiaramente Deve sospettare Che qualcosa Non va O la presenza Diciamo Di corti Estrani Grazie mille Allora Io farei L'ultimo Paio di domande Intanto Nicola Ci aveva Chiesto Quasi subito Per i celiaci Quando c'è Un sospetto Di aver ingerito Per contaminazione Glutine Ripulire l'intestino Con yogurt È corretto Ma Questo Poi dipende Molto Nel senso Che lo yogurt È un prodotto Fermentato E Sicuramente Ha dei vantaggi Però Per esempio Spesso I celiaci Hanno Una Intolleranza All'attosio Che Non in tutti È compensata Diciamo È bypassata Dall'utilizzo Dello yogurt Intendo dire Lo yogurt Ha minore Lattosio E quindi Comunque È ben tollerato Ma non Ci sono alcuni Che hanno Una grossa Intolleranza All'attosio Per cui Non tollerano Neanche Lo yogurt Quindi Dipende Perché se è un celiaco Con una grossa Intolleranza All'attosio Potrebbe non essere L'ottima Indicazione In generale Non è che Ripulisca L'intestino Però E ritorno Sempre al concetto Probabilmente È molto meglio Un kefir Sicuramente Irrobustisce Un pochino L'intestino Quindi Può essere Una buona scelta Però Ribadisco sempre Che è meglio Il kefir E bisogna valutare Di caso in caso Non Non tutti i celiaci Sono uguali Chiaro 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 Allora 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 Io prima Avevo visto Una domanda Abbastanza Cattivella Però Molto interessante Che non trovo più Facciamo finta Che l'ho persa Per davvero No tra l'altro L'ho persa Per davvero Non mi ricordo Neanche Che l'aveva fatta Passa la domanda Invece Vedo che c'è Un po' di gente Anzi Che ci chiede Se Poi qui in caso Vedi tu Se rispondere meno È possibile Avere una marca Commerciale Di yogurt In particolare Più vicina Alle aspettative Nutrizionali Decantate Nella presentazione Dell'interessante Webinar Allora Io vi posso dire Che Ma devo dire Le marche Devo dire Sì Noi non siamo Sponsorizzati Da nessuno Quindi E non penso Che nessun Produttore di yogurt Ne abbia male Se 117% Allora Uno yogurt Che contiene Che Secondo me È ben fatto È Uno yogurt Che è Lo yogurt Della cascina bianca Ed è uno yogurt Che Diciamo È un buon prodotto Dal punto di vista Dei fermenti In generale È proprio Un buon prodotto Poi Ci sono Anche degli yogurt Che sono Fatti Diciamo Per esempio Con latte Da fieno Parliamo sempre Di yogurt Scusate Io parlo Di biologico Perché Per me È una Discriminante Importante Con latte Da fieno E per esempio L'acce nero Ne produce Uno Che è fatto Con latte Da fieno Ed è Un buono Yogurt Anche Quindi Questi due Secondo me Sono due Buoni Prodotti Latte Da fieno Per chi Non lo Sapesse Implica Il fatto Che sono Animali Allevati A terra All'aperto E che Mangiano Fieno Quindi Non mangiano Insilati Non mangiano Mangimi Ma mangiano Fieno Quindi Questo è un valore Diciamo Aggiunto Per quello Che riguarda Alcuni Micronutrienti Che possono essere Contenuti All'interno Dello Perfetto Grazie mille Io direi Di chiudere Con l'ultima Domanda Che è la domanda Di Giorgio Così almeno Finiamo anche Le 19.30 Vi lascio tutti A fare i vostri Insomma A preparare Una cena Sfiziosa Con tutto Quello Che abbiamo Imparato Questa sera Giorgio Ci chiede Oltre a fare Complimenti Alla dottoressa Renata Perché è stato Molto interessante Si può chiedere Se lo yogurt Bianco Ha comunque Effetti positivi Sull'intestino Sì Beh ha effetti Positivi Sull'intestino Perché sicuramente È un regolatore Dell'intestino Quindi ha effetti Non solo positivi Sull'intestino Sull'intestino E poi anche Su tanti altri Parametri metabolici Sì Ci può essere Una rara Rara Evenienza In cui Ritorno A dire Ci sono Quegli intolleranti All'attosio Con un grosso Grado di intolleranza Per cui Lo yogurt Può fare un effetto Di stipsi Però Lì c'è Un'intolleranza Forte al lattosio E quindi Anche con lo yogurt Non si mai passa E si può avere Questo effetto Se no Generalmente Lo yogurt È un buon Modulatore Della funzione Intestinale Perfetto Grazie mille Renata Io direi Di chiudere qui Siamo Precisi Alle 19.30 Io vi lascio In chat Ancora I prossimi appuntamenti Che in caso Non riusciste A copiarli Dalla chat Potete trovarli tranquillamente Sul nostro sito www.infowine.com Vi condivido in chat Il prossimo appuntamento Che è di martedì prossimo Alle ore 10.30 Ed è quello Sulle vendite del vino Ringrazio tutti quanti Per aver partecipato Ringrazio te Renata Per queste relazioni Che sono sempre Veramente molto interessanti E finalmente Anche io posso ascoltare Qualcosa di diverso Delle solite cose Enologiche Io ringrazio te Per la moderazione Sicuramente Anche la mia collega Che mi aiuta Sempre in regia Magdalena Poverina Che si sorbisce Ore e ore Di cose enologiche Almeno C'è un qualche cosa Che può essere Veramente interessante Cristina Ti metto il microfono Così puoi fare Un saluto finale Anche tu Devi accenderlo tu Cristina Il microfono Sì sì Guarda Fatto tutto Davo già per salutati Grazie di nuovo A tutti Chi riceverete la mail Su quando facciamo Questa sessione Domande e risposte Conversazione libera Chiamiamola così E buona cena a tutti E grazie Renata A Francesco E a tutti Perfetto Grazie mille Buona serata Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti